È assolutamente bene sapere, e ci tengo a farlo sapere, che dopo diversi giorni durante i quali stavano circolando molte news su una possibile eliminazione totale sul canone tv della bolletta dell'elettricità, ora arriva la smentita ufficiale da parte del Ministero dell'Economia, ma tutto falso. Il canone Rai resta in bolletta per il 2023 e si paga esattamente allo stesso modo. Se paghiamo la bolletta elettrica quindi è perché abitiamo in quella casa e se ci abitiamo quasi certamente, guardiamola anche la tv, ma non tutti sono obbligati a pagare il canone Rai in bolletta e qualcuno diciamo che l'esenza ce l'ha. Quindi, ragion per cui, capiamo un attimino chi è che invece non va a pagare il canone. Ci sono due categorie di cittadini italiani che possono chiedere l'esenzione del pagamento, gli anziani con almeno 75 anni di età e i militari. Non ci avrei mai azzeccato io se l'avessi dovuto indovinare. E niente, in pratica c'è un'ulteriore categoria tra l'altro di cittadini che non pagano il canone, cioè coloro che sono intestatari di utenze elettriche e quindi ricevono la bolletta della luce ma non hanno nell'abitazione un apparecchio televisivo, cioè nel senso che non c'è fisicamente una tv all'interno dell'appartamento. Attenzione perché ci ha voluto un chiarimento ufficiale da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per stabilire questa cosa e soprattutto cosa si intenda con queste parole, diciamo. Secondo quanto specificato dal Ministero, in una nota 9668 del 2004-2016, per apparecchio tv si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare, visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare che sia, direttamente o tramite decoder o sintetizzatore esterno. Per sintetizzatore invece si intende un dispositivo, interno o esterno che sia, idoneo ad operare le bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale tv. Ma chi è che non paga questo benedetto canone? Qualcuno ci sarà, no? Dalla lettura della normativa al momento in vigore, dunque, emerge in modo chiaro che il pagamento del canone è legato strettamente alla tecnologia radio, al segnale digitale terrestre o digitale satellitare. Quindi, di conseguenza, se l'apparecchio usato per vedere un contenuto non riceve il segnale radio, il canone, che lo paghi a fa? Non si paga. Ecco qualche esempio di dispositivi sui quali non si deve pagare il canone. Attenzione, PC, PC, avete capito bene, personal computer, Mac, smartphone Android, iPhone, tablet Android, iPad, proiettori video e monitor. Quindi, sintetizzando, spero che queste informazioni vi siano assolutamente utili. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo video, se vi va lasciate un bel pollicione in su per supportare il canale. Io vi aspetto per un prossimo video, sempre qui su Pausa Caffè Live.